Gli appalti al massimo ribasso, i tagli indiscriminati, la precarizzazione del personale ospedariello, la corsa al risparmio sulla pelle dei pazienti sono facce dello scandalo a sanità che Will e Will FPL Catania denunciano da tempo. Tramito un'autorevole ed inquietante conferma dell'intervista rilasciata al quotidiano alla Sicilia da Diego Piazza, presidente dell'associazione chirurghi ospedaliere primario dell'azienda Policlinico Vittorio Emanuele. Bisturi, guanti, ferri, chirurgici e dispositivi non possono essere tenuti senza certezza di uno strettissimo rapporto qualità-prezzo che privilegi la salute dei cittadini. Lo affermano a Fortunato Parisi, segretario generale della Will di Catania e segretario regionale della Will Medici, e Stefano Passarello, segretario territoriale della Will FPL, che aggiungono, qui più che altrove nella città degli stand scaduti, riteniamo doveroso alzare la voce contro i guasti che le situazioni politiche stanno provocando nel sistema sanitario. Senza contare poi che scelerate scelte nelle forniture espongono il Paese a risarcimenti e danni ben più onerosi dei presunti risparmi. Parisi e Passarello concludono ricordando le battaglie di Will e Will FPL per scongiurare salti nel buio con l'ormai imminente chiusura del pronto soccorso del Vittorio Emanuele e sollecitare l'apertura del San Marco al Librino, che rischia di sommarsi a lungo elenco delle opere incompiute etnee. E ancora dal Garibaldi al Vittorio, al Ferrarotto, al Santa Marte, al Santa Venera di Ecireale, fino al Gravina di Caltagirone, è allarmante la mappa dei buchi negli organici effettivi dei medici e paramedici. Vanno rapidamente colmate le gravissime carenze di personale nei reparti degli ospedali e vanno stabilizzati i precari che sono ormai divenuti essenziali per lo stesso funzionamento di molte strutture. Si è tenuto venerdì 29 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Salone di Rappresentanza Mario Scelba del Municipio di Caltagirone il primo dei tre incontri del corso di formazione sull'armonizzazione contabile per dirigenti funzionari e responsabili dei centri di spese e di entrata del Comune di Caltagirone. Ha introdotto il segretario generale Carolina Ferro al relazionato l'esperto Gianfilippo Marino. Prossimi appuntamenti il 2 e il 10 febbraio, alla stessa ora e allo stesso luogo. E riprende anche per il 2016 l'attività dell'Istituto Musicale Pietro Vinci di Caltagirone. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione seguenti corsi di insegnamento. Per i corsi ordinamenti pianoforte, violino, flauto, clarinetto, tromba, sassofono chitarra e canto lirico e per i corsi speciali propedeutica musicale dai 4 ai 9 anni e musicoterapia per i corsi straordinari annuali di pianoforte jazz, batterie e percussioni canto moderno e jazz, basso elettrico e contrabbasso e per i corsi intensivi, collettivi e individuali teoria e lettura musicale, armonia, strumentazione e orchestrazione oltre che informatica musicale e avviamento alla direzione d'orchestra. Gli interessati dovranno presentare istanza al direttore dell'Istituto Musicale Pietro Vinci in via San Giovanni Bosco numero 32 a Caltagirone entro il 12 febbraio. Il modulo dell'istanza è reperibile sul sito dell'Istituto e potrà essere compilato online, stampato e sottoscritto e quindi recapitato a mano o a permesso postale. Fondato nel 2001 a seguito di un apposito protocollo d'intesa tra il Comune di Caltagirone e la provincia regionale di Catania, l'Istituto Musicale Pietro Vinci ha rappresentato all'interno del tessuto del Calatino un'occasione per l'avvio e la crescita di significative attività concorrendo alla formazione unitaria degli allevi e all'incremento dell'offerta artistica sul territorio. Nel corso dell'ultimo anno accademico sono stati ritenuti insegnamenti individuali e collettivi con una programmazione didattica fortemente implementata da attività collaterali quali i concerti a Villa Patti e la collaborazione alle manifestazioni artistiche del quinto festival internazionale del Val di Noto Magie Barocche tradottosi a Caltagirone in un apprezzato concerto nella chiesa del collegio. E' stata inoltre avviata una selezione di voci bianche con bambini e bambine dai 5 ai 12 anni con la conseguente costituzione di un coro che nel corso delle festività natalizie ha tenuto quattro rappresentazioni. Sabato 30 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze Credito Siciliano in Piazza Risorgimento a Caltagirone si terrà il terzo incontro dell'iniziativa culturale Tesi e Contesi, giovani laureati, Cuntano, organizzato dall'Associazione Culturale Sturziana in collaborazione con la Biblioteca Diocesiana Pio XI. durante l'incontro verrà presentato il testo dal titolo Sturzo e le casse rurali i casi di Caltagirone, Palagonia, Militello e Mineo di Alice e Parrinello interverranno Michele Lanza e Francesco Failla. Inizia il mandato del Ministero Pastorale di Don Davide Paglia presso la parrocchia San Giovanni Bosco in Caltagirone. La celebrazione eucaristica di inizio mandato avrà luogo sabato 30 gennaio 2016 alle ore 18 in una celebrazione preseduta da Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri. La cittadinanza e la comunità è invitata a partecipare. Alla Galleria d'Arte Moderna delle Ciminiere, lunedì 1 febbraio alle ore 9.30, il commissario straordinario della città metropolitana di Catania, Maria Costanza Lentini, inaugurerà la mostra internazionale di grafica, i segni di Agatè, organizzati in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Catania. Il progetto artistico e culturale legato all'evento espositivo sarà illustrato dal direttore dell'Accademia Virgilio Piccari e dal docente di grafica Liborio Curione. All'inaugurazione della mostra, che contiene 190 opere realizzate da docenti e studenti di grafica provenienti da diverse e varie accademie e università, italiane, spagnole, austriache, messicane, inglesi, argentine, brasiliane ed ucraine, sarà presente il sindaco bianco con altre autorità. Grazie a tutti.